Ciao Paccio, sei tu. Ciao sono Beatrice Pozzoni, attaccante. Sono venuta a Giorgione per poter riuscire a replicare quello che ho fatto l'anno scorso, quindi vincere un campionato e riuscire ad andare in Serie A2 e partecipare anche quest'anno alla finale di Coppa Italia con la speranza quest'anno di arrivare prima. Ciao sono Lucia Morra, libro della Giorgione Pallavolo. Sono ormai qua da tre anni, ma ogni volta è come se fosse l'inizio. Spero quest'anno di riuscire a toglierci qualche soddisfazione che stiamo rincorrendo da tanto, come la vittoria del campionato e un buon risultato in Coppa Italia. Noi usiamo il dispositivo Taupac per poter riuscire a recuperare meglio dopo gli allenamenti, soprattutto quando magari carichiamo di più in sala pesi o facciamo allenamenti più intensi e quindi lo sfruttiamo in caso di dolore principalmente. Quindi se abbiamo un sovraccarico muscolare da qualche parte individuiamo la zona da sole e lo applichiamo su quella zona. Stiamo in un periodo in cui gli impegni si aumenteranno man mano e dovremo farci sempre trovare pronte, quindi oltre a degli allenamenti intensi e ben strutturati ci aiutiamo anche con i dispositivi Taupac, oltre per quanto riguarda il recupero muscolare e fisico anche per quanto riguarda la parte legata alle emozioni che sono comunque molto importanti. Il segreto per fare il match point ha sicuramente una componente mentale perché arrivate a quel punto della partita e la componente fisica è calata quindi mentalmente bisogna riuscire a mantenere un certo equilibrio e una forza tale da non pensare al punteggio e mettere giù la palla definitiva. Il segreto per fare il match point è ricordarsi che quello è il risultato di tutta la fatica fatta in settimana quindi vederla in questo modo secondo me può aiutare molto e tante volte questioni di dettagli tante volte questioni di piccole cose e vederla in quel modo secondo me può aiutare per fare il match point. A iniziando ho applicato per un periodo i Taupaci sulla spalla perché ho avuto un infortunio di un sovraccarico che mi ha portato a non allenarmi troppo e unita alla fisioterapia devo dire che è stato di grande beneficio quindi ha velocizzato molto i tempi di recupero e sono tornata prima in campo. Le scriverei Taupaci come utile, comodo e innovativo.